Se mi lascio in piazza che vi vengo ad aspettare A me mi sono già arrivati i mille messaggi, siamo per partire Don si mi fa prendere la curva Ornella sta cedendo Fammi uno spillo quando siete vicini a Don Se mi lascio in piazza che vi vengo ad aspettare Che vi vengo ad aspettare Venimi No, non voglio Non vuoi La c'è, è a casa che ci aspetta e non ce la fa più Non ce la fa più Secondo me sì perché non c'è nessuno Andiamo a casa con qualcosa che sta arrivando E' un giusto strano da fare E noi dobbiamo scegliere su qualcosa qua Vedi il rumore sinistro Allora Appoglio ragazzi Va bene Se toglie il gilet Dai, su, hai tante credo E' già andato tutti Sì presto è partito Non lo resti Non lo resti pure Non lo resti pure Ciao 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 bella Ciao 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 Siamo a Visevano purtroppo, sono le sei, abbiamo appena lasciato giù i due, appena lì, abbiamo visto un resto, abbiamo andato a salutarlo, e quest'ora non soffrendo, magari non riesci più a farlo con sintesi come l'ha, comunque gli uomini abbiamo toccato il suolo per primi, insieme a due appena, c'è una cosa buona. Buongiorno, andiamo andando in una città pazzesca, andiamo andando verso Torno, la brucia più da Carlano, è tutto piatto, eccezionale qua, penso che ci sono 100 macchine, eccezionale. La sera non riesci più a farla a fotosintesi, stasera in crisi. Ci vede già il posto di Torno, magari non riesci più a farla a fotosintesi. Non ci vede il mio zio, è la spalpitazione, spalpitazione, è la spalpitazione. Poi l'orrella piange, attenzione, piange, andiamo adorno a es, prestali in marcia. Torso, 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 torso. Ero, qui dove viveva la veneroni, qui dove poco tempo fa viveva la veneroni. Guarda, 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 ci senti il bottolino, aspetta che è strano, apri il finestrino che si senti con tutte le costruzioni. Dai, è la cosa, è la cosa. È la partita, non è sì? Ah, è schifo, la sua stava. Subito. Ok, siamo Paiaduono. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ciao a tutti! Firma, firma, firma! Per questa edizione Vagrisasi 2000 è tutto. Ciao a tutti! Grazie a tutti.